Il segreto di padre brown capitolo 6 il peggior delitto del mondo padre brown stava passeggiando in una galleria di quadri ma una particolare espressione disegnata sul suo volto faceva pensare che non fosse lì per godere delle opere d'arte in effetti non le guardava per nulla benché amasse molto la pittura non che ci fosse qualcosa di immorale o di indecente di quei modernissimi dipinti solo un temperamento davvero molto emotivo si sarebbe sentito toccato dall'immoralità di quelle spirali astratte dai coni capovolti e dai cilindri spezzati con i quali quell'arte futurista cercava di esprimere il suo messaggio all'umanità padre brown stava in realtà attendendo una giovane amica che gli aveva dato appuntamento in quel luogo insolito perché anche lei era abbastanza futurista la giovane amica era anche una sua parente una dei pochi parenti che avesse il suo nome era elisabeth fané ma lui la chiamava semplicemente betty era la figlia di una sua sorella che si era sposata con un signore di una nobile famiglia decaduta poiché l'uomo era poi morto per la ragazza padre brown era un protettore un sacerdote e in un certo senso anche un tutore oltre che lo zio in quel momento però stava osservando la gente che riunita in gruppi si trovava nella galleria senza riuscire a vedere la testolina bruna e il volto luminoso della nipote ad ogni modo scorse parecchia gente che conosceva altra che gli era sconosciuta e tra questi qualcuno che per semplici motivi di gusto non ci teneva a conoscere fra la gente che il prete non conosceva e che tuttavia attirò la sua attenzione c'era un giovanotto snello e vivace vestito elegantemente dall'aspetto di uno straniero mentre aveva la barba tagliata a punta come un vecchio spagnolo i capelli erano talmente corti da sembrare un copricapo nero aderente fra la gente che il prete non voleva conoscere in particolare c'era una signora dall'aspetto imponente vestita di rosso sgargiante con una criniere a bionda troppo voluminosa per essere chiamata in qualche altro modo aveva un volto espressivo e piuttosto stanco di carnagione pallida e malsana e quando guardava qualcuno aveva nello sguardo la potenza affascinante del basilico con lei come scorta c'era un uomo basso dalla faccia larga e barbuta e occhi dal taglio allungato socchiusi e assonnati la sua espressione era soddisfatta e benevola anche se solo in parte sveglia ma quando si guardava da dietro il collo taurino aveva qualcosa di brutale padre brown guardava la signora pensando che l'arrivo di sua nipote sarebbe stato un piacevole contrasto per qualche ragione continuò a fissarla finché giunse al punto di sentire che l'arrivo di una qualunque persona sarebbe stata comunque un piacevole contrasto fu quindi con un certo sollievo benché con un lieve sussulto come se si destasse in quel momento che si voltò al suono di una voce che lo chiamava per nome e vide un altro viso che conosceva era il viso astuto manichevole dell'avvocato grambi le cui ciocche grigie sembravano quelle incipriate di una parrucca tanto era notevole il contrasto fra queste e l'energia piena di giovinezza dei suoi movimenti era uno di quegli uomini della city che corrono come scolaretti dentro e fuori i propri uffici in un elegante galleria d'arte non poteva trottare in quel modo ma sembrava non desiderare altro visto come si agitava guardando a destra e a manca alla ricerca di qualcuno di sua conoscenza non sapevo disse sorridendo padre brown che sostenesse la nuova arte non sapevo che foste qui replicò l'altro sono venuto per cercare una persona vi auguro buona fortuna rispose il prete anch'io sono qui per la stessa ragione è un uomo di passaggio diretto al continente sbuffò l'avvocato e potrei trovarlo in questo luogo strambo ruminò un momento poi disse all'improvviso ecco sono certo che sapete mantenere un segreto conoscete per caso john newsgrave no rispose il prete ma non so perché dovrebbe essere un segreto anche se da quel che si dice se ne sta nascosto in un castello non è quel vecchio su cui circolano tante storie che vive in una torre con un portone serrato e un ponte levatoio quello che preferisce vivere in pieno medioevo è uno dei vostri clienti no replicò grambi brevemente è suo figlio il capitano musgrave a essere venuto da noi il vecchio ha però molto a che fare con questo affare ma io non lo conosco questo è il fatto ecco è questo a essere del tutto confidenziale come vi ho detto ma con voi posso confidarmi abbassò la voce e accompagnò l'amico in una galleria secondaria che era piuttosto vuota e dove erano esposti vari oggetti il giovani musgrave continuò allora vuole prelevare una forte somma presso di noi da rimborsare alla morte del vecchio padre che vive nel northumberland il vecchio ha passato da parecchio la settantina ed è possibile che muoia da un momento all'altro ma che ne sarà del suo patrimonio che cosa capiterà al suo denaro ai suoi castelli ai ponti levatoi e a tutto il resto è una bellissima proprietà antica e ancora grande valore ma e questo è strano non è ancora stata assegnata in eredità così ora capite a che punto siamo bisognerebbe vedere se tra padre e figlio corre buon sangue capisco sei in buoni rapporti col figlio voi vi mostrerete più amichevole osservò padre brown ma temo proprio di non potervi aiutare non ho mai incontrato john musgrave e credo che poca gente lo incontri al giorno d'oggi ma è ovvio che abbiate diritto a una risposta su quel punto prima di prestare al giovane del denaro si comporta in modo da poter essere diseredato beh non saprei rispose l'altro è molto popolare è una figura brillante e conosciuta in società ma vive molto all'estero e ha fatto il giornalista bene disse padre brown questo non è un delitto o perlomeno non sempre sciocchezze esclamò grans biseccamente sapete quel che voglio dire è una specie di nomade ha fatto il giornalista il conferenziere l'attore e ogni genere di mestiere io devo essere sicuro del fatto mio o eccolo qui e l'avvocato che aveva impazientemente scalpitato nella galleria più vuota si voltò di scatto e si precipitò di corsa nella sala affollata a incontrare il giovane alto ed elegante dai capelli corti e la barba alla spagnola i due si allontanano insieme chiacchierando e padre brown li seguì per qualche momento con i suoi occhi socchiusi da miope il suo sguardo poi mutò direzione richiamato dal trafelato e impetuoso arrivo di sua nipote betti con grande sorpresa dello zio lei lo riportò nella sala meno affollata e lo fece sedere su un divano che sembrava un'isola in mezzo al salone ho una cosa da raccontarti disse ed è così stupida che nessun altro potrebbe capirla mi stupisci rispose padre brown è per quell'affare di cui tua madre mi ha parlato tanto fidanzamento e tutto il resto lo sai chiese la nipote che vuole che mi fidanzi col capitano musgrave non lo sapevo disse con rassegnazione padre brown ma sembra che il capitano musgrave sia un argomento di moda noi siamo poverissime disse e non serve dire che questo non conta tu lo vuoi sposare domandò padre brown guardandola con occhi socchiusi lei fisso il pavimento accigliata poi rispose sottovoce pensavo di sì perlomeno pensavo di poterlo fare ma proprio ora ho avuto uno shock allora dimmi tutto l'ho sentito ridere rispose lei è un'eccellente dote quella di essere una persona allegra replicò padre brown tu non capisci disse la ragazza non era affatto allegro la questione è proprio questa non era allegro tacco il momento poi continuo con fermezza sono arrivata qui molto presto e l'ho trovato seduto tutto solo nel bel mezzo della galleria delle pitture futuriste che in quel momento era deserta non sapeva di avere qualcuno vicino era seduto tutto solo e rideva beh non c'è da stupirsi disse padre brown non sono un critico d'arte ma alla vista dei quadri nel loro insieme oh tu non vuoi capire esclamò arrabbiandosi non è questo non guardava i quadri stava fissando il soffitto ma sembrava che i suoi occhi non vedessero rideva in un modo che mi sono sentita gelare il sangue il prete si era alzato e passeggiava per la sala con le mani dietro la schiena non devi essere precipitosa in un caso di questo genere cominciò ci sono due tipi di uomini ma non possiamo parlare di lui ora eccolo qui il capitano musgrave entrò a passo svelto nella sala e l'attraversò sorridendo gransby l'avvocato lo seguiva e il suo volto che prima aveva un'espressione preoccupata dimostrava ora sollievo e soddisfazione devo scusarmi per tutto quello che ho detto del capitano disse al prete mentre oltrepassavano insieme la porta è proprio un ragazzo di buon senso e capisce bene il mio punto di vista mi ha chiesto perché non vado a trovare direttamente suo padre potrò sapere dalle labbra del vecchio come va la faccenda dell'eredità beh non potrebbe fare una proposta più franca di questa non vi pare ma è così ansioso di concludere la cosa che mi ha offerto di portarmi lui stesso in macchina musgrave moss questo è il nome della proprietà o allora proposto dato che era tanto gentile che potevamo andarci insieme e così partiremo domani mattina mentre i due parlavano betty e il capitano apparvero insieme sulla soglia della porta creando così incorniciati un quadro che qualcuno abbastanza sentimentale avrebbe preferito ai coni e ai cilindri qualunque potessero essere le loro altre affinità insieme formavano una bellissima coppia e l'avvocato stava per dire proprio questo quando il quadro bruscamente cambiò il capitano james musgrave stava guardando verso la galleria principale quando il suo viso e i suoi occhi esultanti si fermarono su qualcosa che lo fece cambiare da capo a piedi padre brown si guardò attorno come sotto l'impulso di una premonizione e vide il cupo e livido volto della grossa donna in rosso sotto la bionda capigliatura leonina stava immobile leggermente curva come un toro che abbassi le corna e l'espressione del suo viso pallido era tanto seria e appassionata che si accorsero appena dell'ometto dalla gran barba che le stava dietro musgrave avanzò fino al centro della sala verso di lei come un manichino di cera elegantemente vestito e messo in moto da qualche congegno meccanico le disse qualche parola che gli altri non sentirono lei non rispose ma insieme si voltarono si allontanarono e percorsero la lunga galleria discutendo mentre il barbuto metto dal collo taurino faceva da retroguardia come un grottesco paggio diabolico che il cielo ci aiuti mormorò padre brown seguendoli con lo sguardo accigliato ma chi è quella donna non certo una mia conoscente sono ben felice di dirlo replicò granvi con sinistra leggerezza da l'impressione che un piccolo flirt con lei possa finire in modo fatale non è vero non credo che stia flirtando con lei disse padre brown mentre parlava il gruppo in questione giunto alla fine della galleria si voltò e si sciolse e il capitano musgrave ritorno a grandi passi guardate esclamò parlando abbastanza naturalmente benché sembrasse loro che il colore del suo volto fosse cambiato sono davvero spiacente signor grambi ma mi è impossibile venire con voi domani prenderete lo stesso la mia macchina vi prego io non ne ho bisogno io io devo rimanere a londra per qualche giorno prendete un amico con voi se volete il mio amico padre brown cominciò l'avvocato se il capitano musgrave è tanto gentile disse serio padre brown devo dirvi che ho qualche interesse nella questione del signor grambi e sarebbe un grande sollievo per me se potessi andarci l'indomani un elegantissima auto con un elegante autista filò verso nord verso le brughiere dello yorkshire portando un prete che pareva piuttosto un baule nero e un avvocato che aveva l'abitudine di correre in giro a piedi e non di scorrazzare sulle ruote altrui fecero volentieri una sosta in una delle vallate del west riding cenando e dormendo in un comodo albergo per riprendere il viaggio il giorno successivo di buon'ora correndo lungo la costa di northumbria finché arrivarono a un luogo che era un labirinto di dune di sabbia e di fetide distese di alghe marine ma località nel cuore della quale si trovava il vecchio castello che era rimasto pur nascosto l'unico monumento delle antiche guerre di confine tra inghilterra e scozia alla fine lo trovarono seguendo un sentiero che correva a fianco di un lungo braccio di mare che si addentrava nella costa e si trasformava in una specie di rozzo canale che moriva nel fossato attorno al castello questo era un autentico castello squadrato munito di bastioni come quelli che i normanni costruirono ovunque dalla galilea ai monti grampiani e aveva davvero il portone il ponte levatoio che due uomini furono portati con grande realismo a notare per via di un incidente che ritardò il loro ingresso al castello stavano camminando in mezzo all'erba e ai cardi verso l'argine del fossato che correva come un nastro nero coperto di foglie morte di rifiuti come fosse di ebano intarziato di arabeschi d'oro a breve distanza al di là del nastro nero c'erano l'altro argine verde e i grossi pilastri di pietra dell'ingresso i visitatori di quella rocca solitaria dovevano essere rari perché quando l'impaziente grambi chiamò le indistinte figure al di là del cancello quelle sembrarono avere molta difficoltà nell'abbassare il grande e arroginito ponte levatoio questo prese a muoversi piegandosi come una torre che cadesse su di loro e poi si fermò formando a mezz'aria un angolo minaccioso l'impaziente grambi che ballonzolava sull'argine grido al suo compagno o non posso sopportare questa lentezza si fa prima a saltare e con la sua caratteristica impetuosità fece un balzo e si trovò dopo aver barcollato un poco in salvo sulla riva opposta le gambe corte di padre brown non erano adatte al salto d'altronde il suo carattere è più capace di quello della maggioranza degli uomini da tollerare di cadere con un tonfo in un'acqua pantanosa comunque grazie alla prontezza del suo compagno riuscì a non finire nel fossato mentre veniva tirato su per il verde argine melmoso si fermò a testa china scrutando un punto particolare del versante erboso che fate il botanico domando grambi irritato non abbiamo tempo sufficiente perché voi possiate raccogliere delle piante rare dopo il vostro ultimo tentativo di tuffarvi tra le meraviglie delle profondità andiamo infangati o no dobbiamo presentarci al baronetto entrati nel castello furono ricevuti abbastanza cortesemente da un vecchio domestico l'unico in vista e dopo aver dichiarato lo scopo della loro presenza furono fatti passare in una stanza dalle pareti ricoperte di quercia e dalle finestre protette da antiche inferriate armi di secoli diversi pendevano dei muri scuri e un'armatura completa del quattordicesimo secolo stava come una sentinella presso il grande camino in un'altra stanza lunga oltre questa si potevano vedere dalla porta socchiusa i colori cupi di una serie di ritratti di famiglia mi pare di essere entrato in un romanzo invece in una casa commentò l'avvocato non sapevo che esistessero ancora castelli come questo sì il vecchio gentiluomo mette in pratica la sua mania per le storie in un modo concreto rispose il prete e queste cose sono davvero autentiche non è la creazione di qualcuno che pensa che tutta la gente del medioevo vivesse nello stesso pericolo qualche volta si vedono armature fatte unendo pezzi di varie epoche ma quell'armatura ha veramente protetto un uomo e del tutto è un'armatura da torneo del tardo medioevo credo che anche il nostro ospite sia abbastanza tardo brontolo grambi ci fa perdere un sacco di tempo dovete aspettarvi che in un posto come questo tutto proceda lentamente disse padre brown penso che sia molto cortese da parte sua riceverci dopo tutto siamo solo due sconosciuti che vengono a fargli domande su questioni strettamente personali infatti quando apparve il padrone di casa non ebbero motivo di lamentarsi per la sua accoglienza anzi sentirono che c'era qualcosa di genuino nelle tradizioni e nel suo comportamento e che riusciva senza difficoltà a conservare la sua originale dignità anche in quella solitudine selvaggia dopo lunghi anni di malinconica vita in campagna il baronetto non sembrò sorpreso o imbarazzato da quella visita sebbene i suoi visitatori dovessero essere piuttosto rari e si potesse sospettare che non si fosse allontanato dalla sua casa per più di un quarto d'ora in tutta la sua vita si comportò come se avesse appena salutato delle duchesse non dimostrò né timidezza né impazienza quando loro accennarono al delicatissimo motivo della spedizione dopo una breve riflessione parve convinto che la loro curiosità fosse giustificata dalle circostanze era un vecchio gentiluomo snello dall'aspetto intelligente con le ciglia nere e il lungomento e benché i capelli accuratamente arricciati appartenessero indubbiamente una parrucca aveva la saggezza di portare una parrucca grigia da uomo anziano per quanto riguarda la questione che vi interessa disse la risposta è semplicissima io conto di mettere nelle mani di mio figlio tutta la mia proprietà così come fece mio padre con me e nulla dico nulla potrà indurmi a disporre in modo diverso sono profondamente grato dell'informazione rispose l'avvocato ma la vostra cortesia mi incoraggia a dirvi che mi rassicurate in modo molto categorico non vorrete insinuare che vostro figlio potrebbe comportarsi in modo da non essere degno della vostra fiducia potrebbe esattamente disse john musgravington asciutto potrebbe anzi si potrebbe anche dire di più di potrebbe vogliate avere la cortesia di venire nell'altra stanza un momento li condusse nella vicina galleria dove avevano già gettato uno sguardo e sostando davanti a una fila dei ritratti anneriti e cupi indicò una persona dal viso lungo e dalla parrucca nera questo è sir roger musgrave fu uno dei più vili mentitori e furfanti del periodo di guglielmo d'orange un traditore di due re e qualche cosa di simile all'assassinio di due vedove e questo è suo padre sir robert un perfetto e onesto cavaliere quello invece è suo figlio sir james uno dei più nobili fra i martiri giacobiti e uno dei primi uomini che tentò di dare soccorso alla chiesa e ai poveri che importanza ha se nella famiglia dei musgrave il potere l'onore l'autorità furono tramandati da un uomo buono a un altro uomo buono attraverso un uomo malvagio eduardo primo governò bene l'inghilterra eduardo terzo ricopre l'inghilterra di gloria e anche la seconda gloria venne dalla prima attraverso l'infamia e la stupidità di eduardo secondo che adulò bassamente gaveston e fuggì di fronte a brace credetemi signor grambi la grandezza di una grande casata e della storia è qualcosa di più importante di questi casi accidentali che la trasmettono anche se non la crescono la nostra eredità è stata tramandata da padre in figlio e da padre in figlio continuerà potete star certi signori e dare la certezza a mio figlio che non lascerò il mio denaro a una casa per gatti randaggi un musgrave lo lascerà a un musgrave fino alla fine dei secoli si disse padre brown pensieroso capisco quello che volete dire e noi saremo felicissimi concluse l'avvocato di dare questa rassicurazione a vostro figlio potete dargliela disse serio l'ospite può star certo di avere il castello il titolo la terra e il denaro c'è soltanto una piccola clausola assolutamente privata da aggiungere a quanto vi ho comunicato per nessuna ragione finché vivrò gli rivolgerò la parola l'avvocato mantenne lo stesso atteggiamento rispettoso ma ora lo fissò rispettosamente stupito perché cosa mai io sono un gentiluomo disse musgrave oltre che custode di una grande eredità e mio figlio ha fatto qualcosa di così orribile che ha cessato di essere non dico un gentiluomo ma anche un essere umano è il peggior delitto del mondo ricordate quello che disse douglas quando marmion il suo ospite gli propose di stringergli la mano si rispose padre brown i miei castelli sono del mio re dalle torri alle fondamenta disse musgrave ma la mano è mia si voltò verso l'altra stanza e vi entrare i visitatori e si sentivano piuttosto storditi spero che vogliate ristorarvi disse nello stesso modo tranquillo se non sapete come sistemarvi sarò ben lieto di offrirvi ospitalità per la notte al castello grazie ser jones disse il prete con voce opaca ma penso che sia meglio andare farò abbassare subito il ponte rispose il loro ospite e in pochi momenti il cigolio di quell'enorme congegno assurdo e antiquato riempì il castello di rumore tuttavia benché arrugginito com'era questa volta funzionò con successo e due si trovarono ancora una volta sull'argine erboso oltre il fossato grambi fu all'improvviso scosso da un brivido che diavolo avrà fatto suo figlio esclamò padre brown non rispose ma quando furono ripartiti in automobile debbero proseguito fino al più vicino villaggio grey stones dove scesero alla locanda delle sette stelle l'avvocato vide con sorpresa che il prete non proponeva di allontanarsi in altre parole sembrava avere tutte le intenzioni di rimanere nelle vicinanze del castello non riesco a partire così disse seriamente rimanderò indietro l'automobile ed è ovvio che anche voi potete andare la vostra questione è risolta si trattava solo di sapere se la vostra compagnia può avere garanzie per il prestito richiesto al giovane musgrave ma la mia questione non è ancora risolta voglio sapere se è un marito adatto per betty devo cercare di scoprire se ha fatto davvero qualcosa di terribile o se si tratta solo dell'allucinazione di un vecchio lunatico ma obietto l'avvocato se volete scoprire qualcosa su di lui perché non lo seguite perché restate in questo posto desolato dove il ragazzo viene dirato a cosa mi servirebbe seguirlo domandò l'altro non ha senso andare da un giovane alla moda in bone street e dirgli scusatemi ma davvero avete commesso un delitto troppo orribile per essere un umano se è abbastanza malvagio da compierlo lo è anche abbastanza da negarlo e poi non sappiamo nemmeno che cosa abbia fatto no c'è solo un uomo che sa la verità e può dirla per uno sfogo di austera eccentricità per il momento resto vicino a lui in effetti padre brown restò vicino all'eccentrico baronetto riuscì davvero a incontrarlo più di una volta con la massima cortesia da parte di entrambi poiché quello nonostante la sua età era vigorosissimo e ottimo camminatore così che spesso lo si vedeva passare per il villaggio e lungo i sentieri della zona fin dal primo giorno dopo il loro arrivo padre brown uscito dalla locanda sul selciato della piazza del mercato vide la figura scura e distinta che a lunghi passi si dirigeva verso la posta era vestito in modo sobrio in nero ma il suo volto energico spiccava più che mai nella pienezza della luce del giorno coi suoi capelli d'argento con le sopracciglia brune il lungo mento somigliava vagamente a harry harving o a qualche altro attore famoso nonostante i capelli canuti da tutto il corpo e dal volto sprizzava forza e portava il bastone più come un randello che con un sostegno salutò il prete per primo tornò all'argomento che era stato l'oggetto delle rivelazioni del giorno precedente se vi interessate ancora mio figlio disse con glaciale indifferenza non saprete molto di lui è partito da poco detto fra noi potrei dire che è fuggito dal paese è possibile rispose padre brown fissandolo corrucciato alcuni che non ho mai sentito nominare certi grunov mi hanno molestato per sapere dove fosse continuò ser john e sono venuto proprio qui per spedire un telegram per dire che per quanto ne so il suo indirizzo è fermo posta riga anche questa è stata una seccatura ero già venuto ieri per spedirlo ma sono arrivato all'ufficio postale cinque minuti dopo l'orario di chiusura rimarrete ancora a lungo spero mi farete un'altra visita quando il prete raccontò all'avvocato la breve conversazione avvenuta con il vecchio musgrave nel villaggio illegale apparve allo stesso tempo perplesso e incuriosito e perché il capitano è fuggito domandò chi sono gli altri che lo cercano chi diavolo sono questi grunov alla prima domanda rispondo non so replico padre brown alla seconda dico che è possibile che qualcuno sia venuto a conoscenza del suo misterioso crimine e lo stia ricattando e alla terza rispondo che credo di sapere chi siano i gruno e ciò è quell'orribile donna grassa dai capelli gialli e quello metto che passa per suo marito l'indomani padre brown rientro a londra piuttosto stanco e depose il fagotto nero del suo ombrello con l'aria di un pellegrino che deponga il bordone avevo un aspetto depresso ma questo accadeva spesso durante le sue indagini non era la depressione della sconfitta era la depressione del successo è piuttosto emozionante disse con voce cupa ma dovevo prevederlo dovevo prevederlo la prima volta che sono andato e ho visto quella cosa in piedi laggiù quando cosa avete visto chiese gran bis pazientito quando ho visto che c'era soltanto un'armatura completa rispose padre brown ci fu un silenzio durante il quale l'avvocato non fece che fissare il suo amico poi questi rispose solo pochi giorni fa dicevo a mia nipote che ci sono due tipi di uomini che possono ridere quando sono soli l'uomo che si comporta così può essere molto buono o molto cattivo vedete i casi sono due o confida la sua beffa a dio o la confida al diavolo ma comunque è segno di una vita interiore beh davvero esiste un tipo di uomo che confida lo scherzo al diavolo non gli interessa che qualcuno si accorga dello scherzo o che qualcuno possa venirne a conoscenza lo scherzo in sé gli basta se abbastanza sinistro e malvagio ma di cosa state parlando domando grambi di chi state parlando chi è questa persona che gode nel raccontare uno scherzo macabro a sua amesta satana padre brown lo guardò con un pallido sorriso ah disse l'altro e qual è lo scherzo ci fu un altro silenzio ma questa volta non fu vacuo ma pieno e opprimente sembro scendere su di loro come il crepuscolo che a poco a poco da oscurità stava diventando tenebra padre brown riprese a parlare con voce monotona seduto pesantemente con i gomiti sul tavolo ho visto i ritratti di tutta la famiglia musgrave disse sono tutti vigorosi e longevi e anche per le vie ordinarie penso che dovreste attendere un bel po prima di riavere il vostro denaro a questo siamo preparati rispose illegale ma ogni modo non può protrarsi indefinitivamente il vecchio è vicino all'ottantina anche se ancora se ne va a passeggio e la gente della locanda dice che forse non morirà mai padre brown balzò in piedi con uno dei suoi rari ma rapidi movimenti e rimase con le mani sul tavolo inclinato in avanti a guardare l'amico e questo esclamò a bassa voce ma eccitata questo è l'unico problema ecco la sola vera difficoltà come morirà che cosa intendete santo cielo chiese grambi intendo dire e la voce del prete parve uscire dall'oscurità della stanza che conosco il delitto commesso da jim musgrave c'era una tal solennità nella sua voce che grambi non poter reprimere un brivido davvero è stato il peggior delitto del mondo disse padre brown almeno molte società e civiltà lo considerano in questo modo e fin dai tempi antichi fu punito in modo tremendo nelle tribù e nei villaggi comunque ora so che cosa ha fatto il giovane musgrave e perché lo ha fatto e che cosa ha fatto domandò illegale ha ucciso suo padre rispose il prete a sua volta l'avvocato si alzò dal sedile e lo guardò attraverso la tavola con le sopracciglia aggrottate ma suo padre al castello gridò con voce squillante suo padre nel fossato disse prete e io sono stato un pazzo a non capirlo prima quando qualcosa mi ha stupito in quell'armatura non ricordate l'aspetto di quella stanza come era disposta e decorata con la massima cura c'erano due asce incrociate appese a una parete del camino due asce incrociate l'una con l'altra c'era uno scudo rotondo scozzese su una parete e un altro scudo su un'altra stanza e c'era un'armatura da una parte del focolare e uno spazio vuoto dall'altro lato nulla può farmi credere che un uomo che ha provveduto alla sistemazione di tutta la camera con tale meticolosa simmetria potesse lasciare quel vuoto asimmetrico ci doveva essere senz'altro un'altra armatura e dove è finita fece una pausa poi riprese con un tono più pacato se ci pensate bene è un ottimo piano per un assassinio e risolvere eterno problema dell'occultamento del cadavere il corpo può rimanere in un'armatura per delle ore e anche per delle giornate mentre i domestici vanno e vengono fino a quando l'assassino può trovare l'occasione di trascinarlo fuori nel cuore della notte e calarlo nel fossato senza neppure passare sopra il ponte e poi che caso fortunato quando il corpo si è completamente decomposto nell'acqua stagnante presto o tardi non rimane che uno scheletro in un'armatura del quattordicesimo secolo qualcosa che non è così strana da trovare nel fossato di un vecchio castello è improbabile che qualcuno ci vada a cercare qualcosa ma se ciò avvenisse ecco quello che ci si potrebbe trovare e ho già avuto una conferma di questa mia ipotesi è stato quando mi avete chiesto se stavo cercando una pianta rara era una pianta sì ma in un altro senso scusate il gioco di parole avevo visto delle impronte di piedi così profonde sull'argine che ero sicuro che quell'individuo dovesse essere molto pesante o portare qualcosa di molto pesante e comunque c'era un'altra morale da ricavare da quel piccolo incidente quando ho fatto quel famoso e grazioso balzo felino il mio cervello è piuttosto confuso disse grambi ma comincio ad avere qualche nozione di quello che possa essere tutto questo incubo che c'entra il vostro salto oggi all'ufficio postale continuò padre brown ho avuto casualmente conferma di quanto mi ha detto il barone ieri che c'era stato dopo l'ora di chiusura il giorno precedente ciò non soltanto nel giorno in cui arrivamo noi ma anche nello stesso momento capito cosa vuol dire questo vuol dire che era fuori quando noi andammo da lui ed è rientrato mentre l'attendavamo ecco perché lo abbiamo aspettato tanto e quando l'ho visto ho avuto improvvisamente la visione che mi ha chiarito la faccenda beh disse l'altro con impazienza e cosa avete visto un uomo di 80 anni può passeggiare disse padre brown un vecchio può camminare parecchio andandosene per la campagna ma non può saltare sarebbe un saltatore meno capace di me quindi se il baronetto è tornato mentre noi l'attendavamo deve essere entrato nello stesso modo nel quale siamo entrati noi e cioè saltando il fosso perché il ponte non era ancora stato abbassato penso che lui stesso avesse guastato il meccanismo per ritardare l'incontro con gli indisiderati visitatori a giudicare della rapidità con la quale è stato riparato ma questa non è la questione quando nella mia fantasia ho visto la figura nera dai capelli grigi fare un bel salto oltre il fossato ho intuito subito che si doveva trattare di un giovane travestito da vecchio e così sapete tutta la storia voi pensate disse grambi lentamente che quel simpatico giovane abbia ucciso il padre abbia nascosto il cadavere nell'armatura prima e nel fossato poi si sia camuffato e così via per combinazione si somigliavano molto disse il prete avete potuto vedere dai ritratti di famiglia come la somiglianza sia forte fra tutti i membri della famiglia e poi voi parlate di camuffamento ma in un certo senso l'abito è sempre un camuffamento il vecchio si camuffava con una parrucca e il giovane con una barba quando si è rasato e si è messo la parrucca assomigliava esattamente al padre è bastato un po' di trucco certo ora capite perché è stato così cortese da farvi venire qua su l'indomani con la sua macchina è stato perché lui ci sarebbe venuto la sera stessa in treno prima si è trovato con voi poi ha commesso il delitto si è travestito ed ora è pronto per gli accordi legali ah disse grambi pensieroso gli accordi legali intendete dire che il vero vecchio baronetto avrebbe disposto dei suoi beni in modo differente vi avrebbe detto chiaramente che il capitano non avrebbe ereditato un soldo rispose padre brown questo piano per quanto sempre bizzarro era proprio l'unico che potesse impedire che il padre vi dicesse così ma voi dovete apprezzare l'astuzia di quanto l'amico vi ha detto il suo piano raggiungeva parecchi scopi in un colpo solo era ricattato da questi russi per qualche infamia sospettato per tradimento in tempo di guerra è sfuggito loro all'improvviso e probabilmente li ha fatti andare con falsi indirizzi a riga ma ciò che tocca il culmine di tutta la faccenda è stata la raffinatezza di quella teoria nella quale riconosceva suo figlio come erede ma non come umano capite mentre così assicurava l'impegno al rimborso della somma provvedeva pure in un certo senso a risolvere quella che sarebbe presto diventata la più grande difficoltà in tutta la faccenda io ne vedo parecchie di difficoltà disse grambi di quale parlate intendo dire che se il figlio non veniva diseredato poteva sembrare strano che il padre e figlio non si incontrassero mai il fatto che il padre avesse ripudiato il figlio in modo privato e non legale risolveva la questione così rimase soltanto una difficoltà come ho detto su cui probabilmente sta riflettendo il giovane signore quando in nome del cielo sarà meglio far morire il vecchio io so come avrebbe dovuto morire disse grambi padre brown continua sempre più assorto e c'è qualcosa di più disse qualcosa sul suo comportamento che gli piaceva in un modo che è molto più beh molto più teorico gli ha dato un insano piacere intellettuale dirci impersonando il padre che aveva commesso un delitto come figlio e cioè nella sua vera identità la considero un'ironia diabolica uno scherzo che condivideva con il diavolo vi dirò qualcosa che sembra un paradosso qualche volta è una gioia infernale dire la verità e soprattutto dirle in modo che tutti la fraintendano ecco perché ama la finzione grottesca di essere qualcun altro e nei panni di un altro dipingeva se stesso a tinte fosche e ciò per come lui è effettivamente per questo mia nipote l'ha sentito ridere da solo nella galleria dei quadri grambi trasalì leggermente come una persona chiamata alla realtà da un rumore vostra nipote esclamò sua madre non voleva che sposasse musgrave una questione di beni e di prestigio suppongo sì disse padre brown sua madre era favorevole a un matrimonio ben ponderato il segreto di padre brown capitolo 6 il peggior delitto del mondo grazie a tutti grazie a tutti